Mi aspetto la stessa cosa, che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e abbia la fiducia verso le proprie qualità per far bene in fuori, in collettivo, in gioco di squadra. Buonasera mister, a questo punto vi chiedo come sta Raspadori, che personalmente ho visto molto bene in campo, sono i minuti finali della scheda domenica di Calvato e anche con invece, domani, caricarsi sulle spalle è una bella responsabilità. Signor Raspadori bisogna fare delle valutazioni perché poi lui ha fatto solo oggi come allenamento, non è stato profondissimo come allenamento e ha fatto tutto quello che c'era bisogno di di fare, per cui si valuterà, ci sarà un'interiore mezza giornata domattina per fargli fare ulteriori prove e poi andremo i siti, quindi poteranno la fiducia. Bitti? Bitti?